Dopo la finestra mattutina dedicata al programma socialfonico realizzato per Facebook il socialista, Fiorello torna in onda su Radio D.I.I. con un nuovo programma intitolato Il Rosario della Sera. Ad annunciarlo è lui stesso con un TV in cui rivela solo la partenza dal 29 gennaio. Secondo indiscrezioni, la trasmissione andrà in onda ogni giorno in una nuova fascia oraria, dalle 19 alle 20. Con Fiorello, i suoi fedeli autori Francesco Bozzi, P.G. Montebelli e Federico Taddia. Nel cast il maestro Enrico Cremonesi, complice di divertenti improvvisazioni musicali e mash-up, e l'imitatrice Gabriella Germani con le sue tante voci, da Barbara D'Urso a Maria De Filippi, da Laura Boldrini a Virginia Raggi e Anna Finocchiaro. Si parte subito con grandi ospiti, nella prima puntata La Band del Momento, Iman Eskin, Rivelazione di X Factor, e nella seconda Georgia.